Votato 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 è sicuramente in ritardo, cercate di recuperare! La politica per ottenere dei rinvidi per far ragionare chi deve ragionare è stata fatta. Adesso è chiaro che bisogna uscirne fuori. È stata fatta però io voglio dire a te adesso veramente quasi come collega, ma veramente ci credevate quando andavate vi assicuravano su certi meccanismi che sapevate fin dall'inizio che non potevano essere reali. Ma ci dovete credere, perché era forza nell'opetro. Si parla di area vasta, il 50% hanno solo il dato di lavoro, il dottorino non ha votato. Noi siamo superati il 45% della popolazione della provincia, e secondo il 30% che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, arriveremo da qui a 5-6 anni, che il 50% della popolazione della provincia sta nella massa. E com'è Diego? E come mai la massa si chiama? Non c'ha più istituzioni, come mai? grazie a tutti. Grazie a tutti, un presidente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.